Siamo qua con il capitano finto Jacopo Zanoni, che cosa ci puoi dire della prestazione di oggi della tua squadra? È stata una prestazione buona della squadra, solidità, abbiamo concretizzato le poche occasioni da rete che abbiamo avuto, però abbiamo gestito bene e non abbiamo corso troppi rischi. Sei contento per il tuo amico Burlando che finalmente ha ritrovato il gol dopo innumerevoli giornate di giuno? Sì, sì, finalmente era ora, un esterno che ha solo un gol è un po' poco, però ora secondo me potrebbe migliorare, io ne ho due ad esempio, questo gioco in difesa, potrebbe comunque migliorare in corso della stagione il suo numero di reti. Ok, perfetto. Invece i tuoi obiettivi che ti sei posto per questa stagione a livello personale e a livello di squadra? Allora, per la squadra arrivare quantomeno ai play-off, personali voglio fare ancora due reti, quindi arrivare a quattro e chiudere il campionato in bellezza. Beh, perché porti dei limiti? Magari addirittura otto ad arrivare in doppia cifra sarebbe un sogno per te, direi. Non credo sia possibile. Però tentarlo a nuocere, dai. Tentarlo a nuocere, certo, però mi rovesciate la prossima. Ok.